In Dorico un altro modo per trasportare è la combinazione di tasti shift più i. Grazie alla sintassi da digitare possiamo trasportare molto velocemente sopra o sotto rispetto alle note selezionate. Digitiamo la lettera t minuscola e per esempio il numero 3 e premiamo invio. In questo modo Dorico traspone di una terza maggiore sopra. Diversamente digitando t meno 3 Dorico traspone di una terza sotto. La lettera t definisce l'azione di trasportare mentre il numero indica il tipo di intervallo. Se dovessimo trasportare di una quinta diminuita allora digiteremo t5d maiuscolo. La sintassi è la seguente. Utilizzando sempre la combinazione di tasti shift più i possiamo aggiungere velocemente delle note sopra o sotto le note selezionate ma possiamo anche aggiungere contemporaneamente note sopra e sotto le note selezionate. Digitando semplicemente il numero dell'intervallo da aggiungere sopra e premendo invio Dorico aggiungerà le note equivalenti all'intervallo scelto. Con il simbolo meno e il numero dell'intervallo Dorico aggiungerà le note relative al di sotto della selezione. Per aggiungere sia sopra che sotto contemporaneamente allora separeremo il primo numero dal secondo con una virgola. Per definire gli intervalli maggiori e minori è possibile farlo digitando anche M maiuscola o M minuscola. Se volessimo inserire una terza minore sotto la linea più alta allora possiamo digitare meno 3 top e le note si inseriranno sotto la linea superiore. Diversamente se volessimo aggiungere delle note sotto la linea inferiore digitaremo meno 4 bottom.